Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende a ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo un altro inverno che soffia neve su di me, che oggi ha freddo se non sono accanto a te, devi credere se ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso in un cielo più in mezzo, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un mondo più umano per dirsi ti amo di più. Dopo un oggi che non va, dopo tanta parità, e nessuno che ti dà niente per niente. dopo tutto il male che c'è nel mondo intorno a te, come è bello ritrovarti accanto a me, devi crederci, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso in un cielo più in mezzo, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso in un cielo più in mezzo, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà dubbola al mio fianco vestita di bianco Grazie mille Grazie mille Grazie mille e hai passato tutta la tua vita qui, credo, e hai passato, mi ha detto, 41 anni. Sì, 41 anni, sì. Ho cominciato in questo posto nel 1970. Ho scoperto in questo posto nel 1969. E poi nel 1970 ho scoperto in un'altra parte, e quando ho scoperto Romina diceva, perché non stiamo construendo una casa in questo posto? Ok, ovviamente ho piaciuto stare in Milano o Roma, eccetera, ma diceva, perché non stiamo in Cellino, il mio posto, quando sei libero? E mi diceva, perché non? E ho cominciato a construire. Hai realizzate? Questo posto era senza acqua, senza elettricità, senza telefono, senza tutto. E passo per passo, anno per anno, ho cominciato a construire. Grazie. 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 È veramente un' ottima strana. È vero? E' vero? E' vero? E' vero? E' vero? E' un'altra forma, no? E' un'altra forma, no? È un'altra forma. E' un'altra forma, no? E' un'altra forma di scoperto, è un'altra forma di musica. e la musica, e la musica, e la musica quando sto in questo posto, e mi rilassamento con tutti i miei persone che lavorano per me, quando sto in la musica, è totalmente diverso, ma la creatività in una parte e la creatività in l'altra parte. E la musica, quando ti sorgerebbe, quando ti sorgerebbe, quando ti sorgerebbe, come to the studio, come to the musica, come to the musica, come to the musica. Normalmente preferisco vedere i l'articolini, perché i l'articolini mi mostrano se questa canzone è ballata, se questa è una canzone, 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 se questo è una canzone. E la articolazione dei l'articolini mi mostrano il ritmo della canzone. anche, se lo so, ho capito, ma lo buone nel mondo è che nessuno è la stessa come i altri altri. Og il differenza fa la differenza. Si, ovviamente. E se ti fai al tuo figlio, qual è il tuo ideale? Era la musica o altre cose? Quando mi sono sicuro, ho cominciato a cantare nel momento in cui ero nato, mi sono sicuro. E quando ero 4 anni, mia madre mi diceva, ti cantare tutto il tempo, e 5 anni è lo stesso, 7 anni è lo stesso. E poi, per favore, vedete questo ragazzo, è Domenico Modugno, Domenico Modugno è nato due chilometri da questo posto. E siamo un bambino, siamo un bambino, abbiamo visto Domenico Modugno, anno per anno, per essere il numero uno. E poi, la legenda, quando ha vinto a Sanremo, ho detto a me, un giorno voglio stare in questo, Sanremo, e vinto anche. E questo è la vita. È bellissimo. Erovision Song Contest, per anno, per anno, siamo un'unico, in Guteborg, in Guteborg, sì. E siamo in un hotel, siamo in un bambino, siamo in un bambino, e tu con Romina, e tu sangi la canzone... Magica, oh, magica... Che pensi di ora di Eurovision? È ok, ora ho iniziato a... Ma tutto il tempo, una grande organizazione, prima di tutto. E... È interessante, perché quando, in alcuni paesi, la musica è nata, nessuno è scoperto. Tutti si piacciono. Probabilmente, Sanso è buono, Sanso è un po' buono, ma la musica non è mai fatto un disastro. Sì, lo so. E cosa pensi di digitali mondiali? Eh... Beh, ero, ero in l'ultima settimana... E' un'unico tempo. E' un'unico tempo. E' un'unico tempo. Me, anche. E' un'unico tempo. E' un'unico tempo. E' un'unico tempo. E' un'unico tempo. Nicména, perché prima abbiamo già il funiglio. E ora èarrive il computer. Di wegen del computer in questa piccola macchina 只 serve 300-400 suoi. Qualche, ma, è impossibile nel mondo spendere senza musica. Biize il modo per se su6 ma anche... Per throughout WorldGGio. Posizione del mondo тут? a potenza di investimento? 참 sound? questo è anche unico problema, perché lo interiore DO tweaks successoorno al l'ambo. criticali all'amore all'amore nadie ne lo vuole Maria deleted così massacenti 1967 Qua è la certe cosa che ha influencio? Qual è tu? No, ogni paio è una pagine di cultura. E molte pagine creano un libro. E questo è il libro della mia vita allo mondo. Voi arrivati a Turchia molte volte? Sì. Voi arrivati a Istanbul? Sì. In Izmir? In Izmir, Cezmi, Antaglia. Antaglia. Antaglia e molti paesi. Ancara. Ancara anche. E tutti i Turchia in Turchia davvero ti amo. Mi ricordano? Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Perché sono qui? Sì, sì. Mi ricordano con il amico Amet San. Ah, Amet San. In Cezmi. Un grande concerto che abbiamo fatto. Molti volte anche. Sì. 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 I'wizia. Sì. 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 Grazie ad Amet San. Sì. Sì. Quali vorrei dire ai fani sui tuoristi in Turchia? Sama questo! Mi piace! Mi piace! Mi piace! Sì. Mi piace! Mi piace! Vi amo! Ti amo! Grazie a tutti.